E' un giocatore che mi ha fatto un'operazione di prestito con il diritto di riscatto assieme alla Roma, un giocatore nazionale, un giocatore che ha partecipato anche all'ultimo mondiale. E' un giocatore importante, abbiamo preso un giocatore che non lo diamo in immediato perché potete capire, ha fatto i mondiali e poi l'agrandamento perché ha fatto quello che ha fatto e in giro a Roma da tre giorni, non sei da tre giorni, ma forse fa qualcosa qui, poi deve ritornare in America, poi il volumio è stato giusto per me, sono diventati qua, ma sono sette o due giorni, sicuramente ha bisogno anche lui di assestarsi, di allenarsi, non lo avremmo in immediato, diciamo, a tre due partite, però è un giocatore per voi. Io adesso ve lo passo insieme. Buonasera, la posizione che il miglior mi desempegno, credo che mi ha avuto molto bene è di volante per direccia, sento con pista per direccia, o in una doble linea 4 o in una linea 3 per direccia sempre, giurando per la banda. Ha detto che sicuramente il ruolo che preferisce è a destra, che sia come centrocampista oppure come doppia linea o parta linea a destra. Comunque in generale è una posizione di verso avanti. E' molto contento di venire a un club come il SESENA, spero di dare molta esperienza, per farmi in forma, a disposizione del corpo tecnico, per avere la possibilità di ganare un posto e, beh, trattare di sumare minuti, che è solo lo che vengo, e, beh, apportare la mia buettura e le mani che ho di mostrare al SESENA e alla Liga italiana. Ha detto che è molto contento di giocare qui nel SESENA, soprattutto perché spera di ottenere molte vittorie, soprattutto a un certo proprio livello di esperienze. Ha detto che si impegnerà anche a livello tecnico per poter raggiungere ottimi obiettivi e per poter portare il SESENA a ottimi livelli. Sì, io credo che, grazie a la società che esistica, se mi ha dato la possibilità di comprare un sogno più che essere in la Liga italiana, ovviamente in questo grande club che mi ha permesso mostrare, per portarmi, ovviamente, a portarle al club e allo dirigente la compianza che ripositarono per questo lavoro. Io sto oggi anche nella Liga italiana e nel SESENA. Sia per il suo desiderio di potersi mostrare in tutta Italia, ma anche per poter creare un rapporto di fiducia con il club del SESENA e con i dirigenti. Sia per mostrarsi sempre la verità. No, ancora non ho visto il campo del campo, non ho capito della decisione che ho fatto. Ovviamente la società che ha fatto la Roma e il SESENA mi ha dato molto l'attenzione. e oggi si può dire che sono il più contento di pertenerci al club del SESENA. Il SESENA ancora non è andato a vedere il campo, però penso che comunque ci potrà essere tutte le carte in gioco per poter stare bene, giocare bene e non avere problemi. Grazie a tutti.